DEF CON 1 Siamo oggi sul minigioco che non conosco Quindi che ci spiegherò poi Metano E so soltanto che è figo Divertentevole, molto interessevole E niente ci vediamo subito nel minigioco bella Addio Si mancano pochi secondi ancora Un secondo mio Dio Oh 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 minchia Vabbè scusa Cosa scusa? Che cazzo stai impiando? Hey my chalmer you fall You will pay for this E Tanto mo dice le cazzate Di qua Sei lezzo di là Sei lezzo le solite cose Si si va bene Vabbè riassuntino veloce Praticamente Emerald te lo spiego Si Praticamente ora sta dicendo Che lui ci sottoporrà delle prove Allora leggi la chat Il Ah vabbè tu vai in quello che avevano tutti Spero sia questo Sono morto Non era questo Non l'ho letto Ah Oakwood Praticamente Ah era l'Oak Vabbè dai non l'avevo letto Questo è allora Sumo Esatto Guarda buttare Vabbè Sei già morto Emerald Io non ho mai visto nessuno che sia morto su questo minigioco qui Almeno nessuno con Cioè senza problemi mentali ecco capiamoci Quindi mi sa che tu ce li hai Guarda come io rimango vivo invece le zino Tanto vedi non durano molto perché non è che L'ultimo che rimane vivo vince E' a tempo comunque Bastava tipo stare in mezzo e sopravvivere un minimo Metano ma io non capisco cosa Che cosa devo fare Ecco C'è un bersaglio C'è un bersaglio Devi mirare e andarci con le underpearl praticamente Capito? E' abbastanza easy questo Come sono morto Perché l'hai mancato Vabbè Vabbè Non è vero non l'ho mancato Già piderava Eh sì ti devi buttare veramente qua Ok Questo è abbastanza facile Cioè tipo l'ultimo che si butta perde Quindi è abbastanza lezzo Devi salire sopra e devi picchiare la gente che riesce a salire veramente Quindi cerco di non far salire nessuno No ce l'ha fatta e vabbè Questo Ah ok questo è tipo paintball Paintball Come? Ma io non so come mi hanno ucciso Giampi di lava Suga E poi Oh Guarda basta buttarsi tipo anche nei pilastri qua di lava che vedi Guarda verso l'alto ora Devi evitarle Oh Eh stai attento eh Nooo Emerald Seriamente Nooo Siamo gli ultimi lo sai questo Ciao Vabbè abbiamo tre punti il primo ne ha cinque Non è che sia così Io ne ho meno uno No tu non hai meno uno Tu hai tre punti Spliff No no spliff no spliff no spliff no Spliff no mio dio no Oddio Emerald ho paura No Oh mio dio Oh cavolo Oh cavolo cavolo Cosa sto facendo? Ciao metano ciao metano No 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 Uuuu Godo tantissimo No devi cadere Dei cadere Dei cadere Emerald l'importante è rimanere vivi No 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 Aiuto 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 Dai ce la faccio Ok io ne ho ucciso uno No ok No 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 Io ho vinto Oddio No Siamo rimasti in uno contro uno Questo qui lo harui Ho vinto Emerald Io sto facendo le skill Jumping Come jumping de lava Eh ti devi buttare nella lava Buongiorno Emerald La prima cosa che devi fare Ciao Ciao Ora tanto ci muori Lo so già No 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 Non ci credo Non ci credo Madonna Vieni Vieni L'importante Emerald È rimanere vivi Non buttare le persone giù Ricordatelo Ok Comunque io tipo sono terzo Non mi sta andando male Tu dove sei? Ah ok sei ancora vivo Buono Eh dai dai Tanto ormai non Oddio ero bruttino Non penso tu riesci a morire A questo punto Se ti entri Ok Ok Il bersaglio Il bersaglio è laggiù E il lezzo Oh 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 L'ho beccato L'ho preso Perfetto Ora guarda per Allora Sette punti ok Non ho fatti otto Ora di punti Quindi se l'ho preso no Dai non posso non buttarmi giù così Ok Io becco te Emerald Attenzione Vieni No 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 Emerald Emerald non posso Vieni con Metano Metano Ciao Metano I tuoi miei occhi Ti muovi miei occhi Ma vieni qua No Di quello ecco sempre No 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 E a quelli che perdono Ho laggato No ma No ma Ma intanto sei vivo te E vuoi di farlo Cos'è qua No 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 Lontano Vabbè no dai Allora spruzzo E questo qua lo spruzzo Si ce l'ho fatta Che bello Si è quello Emerald Se riesci a tagliarne un pezzo Good job Good job Good job Ah good job GG Good day job Qua cos'è TNT TNT Guarda verso l'alto ora Per evitarli No dai non può avermi ucciso Oh Ho ucciso tutti Oh mio dio Qua mi voglio skillare a merda Le devo evitare tutte proprio Guarda Metano Io trovo il punto vuoto No ma guarda non è il punto vuoto È questione che devi stare in un punto illuminato Per vederla a modo Tutto qui non è difficile Guarda Metano Guarda Nooo Ok perfetto perfetto Guarda ce l'hai fatta Ok dai L'ho fatta anche da lontano E ce la faccio Oh mio dio ce la faccio Emerald io ho 10 punti oltretutto E tu Tu dove sei Ah oh di nuovo di nuovo E lezzo Madonna Ah 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 Ok 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 vai 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 Io continuo a spostarmi Ma scusa ma sono infiniti Stimiti Cioè quando è che finisce Finisce quando uno arriva a 20 punti mi sembra Quindi non manca molto Ah ok Ma non durano molto Si infatti Oh oddio Te lo sto facendo Uh ce l'avevo fatto di nuovo Oh e dall'altra parte Emerald Vieni vieni Dai Dai no No e se l'ha messo davanti quello Infatti anche a me se l'ha messo davanti Aspetta io c'ho 12 punti Forse ce l'ho fatta veramente No non ce l'ho fatta Oh pvp Dai ariamo tutti eh Emerald Alleghiamoci noi ovviamente Si 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 Ok io sto merando tutti Incredibile in questa Oh t'ho beccato scusa scusa No Emerald No 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 dai Frozen Fantasma Eh vabbè ma quelli c'ha Le cose che c'ha Spliff di nuovo Tu pensa scappare per ora Eh vabbè però corri Ok perché considera che se scappi Oh Oddio No 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 Ok se scappi praticamente rimani vivo E se rimani vivo Vinci Ok Emerald tu sei già morto o no? No Ti sento Sono qua No no Emerald che cazzo fai oh Ma ti devo ammazzare oh 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 Questa camera Questa camera Questa camera No abbiamo vinto Ti si perfetto No 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 Eh vabbè vabbè Io ho ucciso quella FK Dai dai io ho ucciso il fantasma che è quello più schilato di tutti No dai no 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 Fantasma di merda Fantasma di merda Non è umano Non è umano Non è umano No la TNT No vabbè dai Fantasma di merda Vabbè No 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 Come fa ad essere già sulla gente Com'è possibile Ma state volando voi Siete cheater Ma sono salito Un libro Devi creare un libro Allora il libro era easy mi sembra Così Ok perfetto ce l'ho fatta Tu lo sai fare un libro? Sì esatto Ok allora Birch Birch lo so perché lo odio Ok Questo qui si voleva prendere Oh ma che cazzo fanno Mi stanno a prendere tutti Oh ma che cazzo fate Io ho fatto io ho fatto Io ho fatto vai vai Ma no no me ne stavano una roba a tutti Ma che cavolo è Questo è abbastanza facile Se non tu guarda la gente che quitta Eh perché la gente quitta perché sa di aver perso mi sa Dai Ok ce l'ho fatto No l'ho fatto oltre No ecco vedi quello lì ha raggiunto 22 punti E ha vinto E noi crepiamo brutalmente Oralmente lui vince Ah ok Quindi ora bisogna rimanere qui Aspettare che Aerobrine ci uccida Oh no Aerobrine In che senso ci si uccida? Eh boh Guarda un attimo Aspetti un secondo E poi vedi cosa succede No io ho paura a metà Eh devi avere paura Guarda 3 1 1 1 Parti un urlo eh Ah vabbè vai Chissà che cosa Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di passare dal canale di Metano E anche noi vi ho il link in descrizione Fra cui la mia pagina Facebook Io vi saluto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti